... Massimo, una presentazione all'evento? Sì, adesso lo facciamo un po' più... No, prima l'antifatto Mi prendi l'antropista? Sì, dipende dall'antropista sempre E diciamo siamo al terzo anno di questo premio che io spero che cresca sempre di più Mi fa piacere vedere la presenza di molti poeti e di molti amici E oltre te che sei... Grazie, grazie Comunque ci inauguriamo il... Il terzo premio internazionale di poesia Emozioni in versi, edizione 2018 Perfetto Perfetto, perfetto... Presto? Presto ci troviamo presso la sala della loggia del Maschio Angioino a Napoli E se poi mi segui facciamo vedere un po' di veduta della nostra Napoli Che faccia sul porto e quindi il mare, il mare Napoli è una cosa Il mare Napoli è una cosa e io amo il Napoli E io amo Napoli, il Napoli e il mare innanzitutto E il mare Napoli è una cosa e il mare Napoli è un'amica assidua che ci segue sempre Viene dalla Sicilia Da Palermo Da Palermo A bella Palermo Benissimo Lei è una poetessa La Mantia Sono stato La Madia La Mantia Ah, la Mantia La Mantia La Mantia Dopo andrà dalla signora E dare il consenso Insomma Alla riprise Ok?